5 in Pagella. Dopo un anno e quattro mesi dall'insediamento, la squadra amministrativa guidata dal sindaco di Belluno, Oscar De Pellegrini incassa una sonora bocciatura da parte della minoranza. In particolare il gruppo consigliare di insieme per Belluno a giudicare negativamente chi comanda a Palazzo Rosso. Un insieme di incongruità, errori e ritardi che per il gruppo guidato da Lucio Olivotto denotano un'incapacità di fondo. A preoccupare soprattutto le ultime notizie di cronaca, con la mancata assunzione di due educatrici per l'asilo unido comunale che ha costretto a dire no all'accoglimento di dieci bambini che invece erano già in graduatoria. Il concorso per l'assunzione delle educatrici dell'asilo unido si era concluso positivamente, ci sono i nomi delle vincitrici del concorso, la graduatoria e non capiamo quindi come mai il 5 di ottobre si è stata adattata una lettera spedita alle famiglie il 9 con la quale si comunica che le assunzioni non si possono fare. Secondo noi il problema dipende proprio dal fatto che il bilancio consolidato non è stato portato in approvazione entro il 30 di settembre e la mancata approvazione di questo documento comporta una serie di conseguenze tra le quali il blocco delle assunzioni. Ma sono molti altri gli argomenti sui quali Insieme Prebelluno è molto critica, dalla gestione della Commissione Pari Opportunità con il membro di minoranza Sofia Buaretto Dannhauser che ha annunciato le sue dimissioni, al decoro cittadino, ma anche veri e propri non-sense amministrativi come nel caso dell'annunciata istituzione delle frazioni che, spiega il consigliere Rasera Berna, in realtà non saranno tali. Vedendo il regolamento delle nuove frazioni vediamo che non sono frazioni, infatti si dice che non modificano la toponomastica e che vengono istituite solamente al fine di fare le riunioni delle assemblee di frazione, tra virgolette frazione, per eleggere i capi frazione. Ma siccome non rispetta questa norma la legge del 54, tant'è che non cambia la toponomastica, in realtà sono frazioni, non frazioni. Questi ultimi fatti ci stanno preoccupando, ci sta preoccupando una mancanza di una guida politica e alla quale si aggiunge adesso, pare, anche una mancanza di un controllo rispetto all'attività amministrativa che deve essere portata avanti.